La scarcerazione di Andreina, il ricatto di Silvia e la rivelazione di Luciano nelle nuove anticipazioni settimanali di Il Paradiso delle Signore Sono state da poco rese note le anticipazioni settimanali di Il Paradiso delle Signore, la nota soap italiana che va in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle 15 25 e che vede fra i suoi protagonisti principali Alessandro Persini, Vanessa Gravina, Roberto Farnesi e Giorgio Lutano Le trame di cui parleremo qui di seguito si riferiscono alle puntate che verranno trasmesse dal 2 al 7 dicembre Questa settimana i fan della serie avranno modo di ammirare nella soap i festeggiamenti per la festa di Sant'Ambrogio al Paradiso, la scarcerazione di Andreina, il ricatto di Silvia Cattaneo ed il concorso Canoro di Tina Furti al Paradiso e la rivelazione di Luciano. Le ultime anticipazioni del Paradiso delle Signore ci segnalano che i grandi magazzini riapriranno le loro porte per le festività di Sant'Ambrogio Tali festeggiamenti, però, saranno rovinati da una serie di furti che metteranno in allarme le Venere Nel frattempo Andreina rivelerà a Vittorio di aver ceduto le sue quote del Paradiso ad Umberto Guarneri sotto ricatto Tina e le ragazze studieranno un piano per convincere Paolo a scrivere una bella canzone che lei possa cantare al concorso Canoro Il ragazzo, infatti, è risentito dal fatto che Tina l'abbia messo da parte per seguire i consigli di un discografico appena conosciuto Umberto Guarneri consiglierà a Luciano Cattaneo di controllare di più la moglie soprattutto per quanto riguarda la gravidanza di Nicoletta Antonio si arrabbierà moltissimo quando Elena deciderà di andare a vivere con Roberta e Gabriella Luciano Cattaneo confiderà a Vittorio di essere stato l'artefice della crisi del Paradiso, per conto di un dente L'uomo, inoltre, gli rivelerà di essere stato lui ad organizzare l'affare per la vendita dei vestiti albini Vittorio Conti sarà costretto ad affrontare l'autore dei furti ai grandi magazzini Il ritorno a casa di Andrena e il matrimonio di Nicoletta e Riccardo Umberto cederà al ricatto di Silvia e darà il suo consenso al matrimonio di Nicoletta e Riccardo Ma le nozze saranno ostacolate anche da Adelaide che chiederà aiuto a Luca per cercare di impedirle Andrena Mandelli verrà scarcerata ma il suo ritorno a casa sarà ben diverso da come se lo sarebbe aspettato Vittorio, infatti, sarà molto arrabbiato con lei per aver ceduto la sua parte del Paradiso ad Umberto Tina sarà colta dal panico quando si sveglierà senza voce proprio il giorno del concorso Cannoro